Come un colpo di spugna, lo sport ha il potere di cancellare per 90 minuti l'idea del peggio e concedere una giornata sugli spalti. Dopo 11 anni torna il derby della Riviera dei Cedri, ma la storia viene stravolta perché a vincere è lo scalea. Gara di galoppo sugli esterni di Gamba Giovane, di esperienza nel reparto centrale, maturo e coadiuvato dalla regia. Castellano e Enrichella, infatti, hanno promosso di tutto e Ponte e Barbu sono stati al gioco. Una vetrina però è tutta per Franza, per l'altro protagonista di una giornata che nel calcio dilettantistico è andata in scena ben 26 volte. Le azioni più belle hanno visto i biancostellati di casa farsi notare dopo sei minuti di gioco, con un flipper di movimenti e di palla e con questa a finire tra le braccia di Franza. Il portiere del Belvedere prima esce con i pugni sulla trasformazione di Curcio, poi si vede spiovere dalla traversa la stessa sfera schiaffeggiata ad esterno da Pizzoleo. Un minuto dopo c'è una palla inattiva anche per Monteiro, c'è anche la testa di Mandarano, ma il fallo dello stesso invalida la rete. Al dodicesimo ancora Scalea, sempre da punizione, sulla sfera si avventano Pizzoleo e Capomaggio per spingerla a rete, ma la migliore spinta però è quella di Franza, di corpo in uscita. E' un preludio strano, ma funziona, perché al quindicesimo lo Scalea è ancora in aria e Angotti si guadagna e poi trasforma un rigore determinante. L'azione riparte grazie al recupero di Ponte, con Curcio a mettere in mezzo e Bilotta a peccare. Dopo il vantaggio si diradano le occasioni esterne, sia Monteiro che Mandarano si affidano alla palla inattiva e ben figurano nella sua traduzione. Niente specchio però, né per loro né per Castellano, Bertini e Curcio. Il centrocampista tenta l'abordata al ventitresimo, il suggerimento partiva da Barbo, dal suo secondo tocco dopo quello con cui la sventagliata di Capomaggio gli aveva favorito il contropiede. Al ventinovesimo Curcio e Angotti duettano a fil di palo, al trentottesimo Bertini spizza alto e sul finire della frazione Curcio curva verso lo specchio la palla dalla bandierina. Lo Scalea non molla e nella ripresa c'è stato bisogno di Ramunno. A furia di elogiare Franza, infatti, il numero uno dello Scalea deve farsi spazio tra la mischia per respingere prima la palla attivata da Calomino e poi la sponda veloce di Monteiro nel prosieguo della stessa azione. Intanto all'ottavo Castellano ancora da fuori aria, il tentativo trova le braccia di Franza. Al tredicesimo Monte suggerito dalla destra da Castellano e al trentaduesimo Mandarano lo ha avuto davvero il colpo da maestro inzuccando una palla che si è infranta sul corpo di Ramunno. Grazie.